Grazie a tutti Un saluto particolare a Giafravo Putin per il regno di Ascol, il neocenno di Alessandra, il neocenno di Alessandra. Donorevole, Siziana Beghi, la geoparlamentata, quindi grazie per la presenza. Donorevole, Siziana Beghi, la geoparlamentata, la geoparlamentata, il neocenno di Alessandra. Donorevole, Siziana Beghi, la geoparlamentata, il neocenno di Alessandra. Io ho avuto il piacere di accompagnarli sabato a Firenze e credetemi è stata un'emozione unica. Vedere il tuo modesto di Cassini e sentire Cassini nominato più volte in piazza della signoria a Firenze, sotto a Palazzo Vecchio, pensa che qualunque persona di Cassini si è un onore che non ha compro, quindi davvero grazie a loro e anche per tutto e non davanti un pubblico importante, internazionale e io voglio fare il maestro, no, no, perché se c'è una parata di altissimi, voglio essere un maestro veramente. Se credetemi ero molto preoccupato dal suo rapine perché pensavo di perdere perché ho detto, qua la fama ormai lo porta il signor Salimonte e quindi veramente abbiamo avuto un successo che dirlo, poi poi io sono un po' di parte, ho veramente stato fatto un grosso successo da parte dell'automatistico, del maestro e di tutti i componenti della parte, quindi il maestro Giulio Tordelli e tutti i componenti veramente ci avete fatto fare una bellissima fiducia a questo paese e ci avete detto tanto di onore, quindi grazie di cuore, io chiamavo Giuseppe, Fabrizia, Fabrizia, adesso la parola.